Attraversamenti ed esplorazioni urbane e umane è il nuovo percorso laboratoriale ideato da Lidia Bucci e Franco Ferrante per il Festival Castel dei Mondi 2022. La presentazione dei contenuti in conferenza stampa all'Officina San Domenico. Sentiamo. Gli spezzi che abitiamo sono concepiti per chi li abita, eppure non sempre luoghi umani e urbani dialogano tra loro. A volte la conversazione si interrompe o è disturbata, generando distacco tra lo spazio e le persone. E' qua allora che è necessario ricreare quelle connessioni perché l'uomo riconosca e si riconosca nel proprio spazio. E' questo il tema centrale del percorso laboratoriale ideato e condotto da Franco Ferrante e Lidia Bucci, nell'ambito del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria, con i cittadini partecipanti, condotto nello spazio urbano del Centro Storico Andriese. Utilizzare il linguaggio teatrale per attraversare lo spazio e le sue storie. Un percorso di narrazione in forma di teatro per riscoprire, per raccontarci un luogo. Un luogo, noi siamo partiti tendenzialmente da questa idea della ferita, no? Della ferita come luoghi danneggiati, come luoghi dimenticati, parallelamente a quelle che sono le ferite umane, nel senso anche il distacco di un abitante, di un quartiere rispetto al proprio quartiere, quindi il non riconoscersi e cercare attraverso il racconto e la narrazione di questi luoghi di ricucire questo strappo. Ci sono degli angoli, ma non soltanto in questa città, nelle nostre città, il famoso non finito, dove le impalcature sospendono il tempo. E noi vogliamo proprio indagare attraverso, come dire, un laboratorio teatrale, e vorremmo proprio indagare su questo aspetto. L'obiettivo è anche quello di creare una coda al festival, di creare una continuità, di andare oltre gli eventi, perché in questo momento storico stiamo lavorando per eventi, tutto deve essere consumato subito, in pochi giorni. Mentre il tentativo è quello di lasciare un alone, come dire, non un ricordo, magari prendendo luce dalle cose che avvengono durante il festival, cercando di creare una continuità. Ecco, è come se la città, dopo l'evento, inizia a interrogarsi. Un laboratorio diretto davvero a tutti? A tutti, a tutti. Non a chi non si è mai avvicinato a teatro, a chi non ha fatto mai teatro, alle persone, perché le persone devono stare al centro, un po' il titolo del laboratorio.